Il gruppo di cittadini, i primi cittadini di gara 2 della Q2, vediamo Mattia Torranco, i due cechi, due cechi nel senso dei non italiani, è tutto il gruppo. Siamo arrivati a farveli vedere, dice, Mattia sta alluminando. Il gruppo di cittadini di gara 1 è riuscito a prendere un leggero marce, e di conseguenza lo sta gestendo, Mattia quando prende margine, Mattia Torranco è veramente un martello, riesce a farlo in suoi traiettori e non teme nulla, riesce a sviluppare dei grandi tempi e infatti sta allungando ancora su Sturi, Cesari, mentre in gara 1 è stato pressato, in gara 1 grande prestazione di Mattia Torranco, grande prestazione di Cesari, grande prestazione di Sturi. Stanno arrivando sul salto del traguardo. Ecco Mattia, è che Sturi, madonna che buona. Buono, è il rossetto che l'abbiamo beccato prima dell'entrata, che sta aggredendo. grande signori la bellissima gara l'acquadisti ecco Mattia vediamo Mattia bel baciarutino savone grande savone passione passione signori l'acquadisti in attesa della gara 1 e dell'intervista della funzione in attesa della gara 2 della funzione e dell'intervista della funzione un soddromo di odolo piccolino ma molto tecnico 1700 metri di pista non c'è neanche un rettiline ciao davvero